Sembra banale parlare dell'importanza di Zlatan Ibrahimovic perché molti si c'erano dietro il personaggio, si c'erano dietro ai gol, però molte volte questi gol sono importanti ma in qualche modo sono le statistiche generali, gol, assist, rapportate alle presenze che testimoniano la forza di un grande campione. Perché parlo di questo? Perché la Gazzetta qualche giorno fa ha fatto un articolo, un copertino dicendo che Ibrahim e Milan proseguiranno insieme, l'unica in qualche modo punto di domanda, punto interrogativo è la condizione fisica atletica di Zlatan Ibrahimovic. Molti, ho letto, purtroppo non condivido, molti in qualche modo hanno giocatore finito a Zlatan Ibrahimovic, in qualche modo non lo considerano più importante per il Milan del futuro. È vero, le cifre, parte variabile del 3,5 più la parte variabile che può arrivare fino a 7 lo rendono un giocatore ancora in qualche modo economicamente costoso per il club, però i numeri sono davvero importanti, le statistiche perché poi, ribadisco, vanno visti i gol, gli assist, rapportati alle presenze per capire quanto un giocatore è importante, quanto il suo peso specifico è importante all'interno di una rosa, all'interno di una stagione. Perché Ibra è stato determinante per il Milan a livello comportamentale, a livello di esempio, a livello di leadership, ma è importante soprattutto per il campo, perché vi dico questi numeri. Quindi, appena arrivato, Zlatan, nella stagione 2019-2020, grazie a Paolo Maldini e Zvoni Mirvobal, che hanno convinto, convinsero la dirigenza del fondo Elliot e Ivan Gazidis a ingaggiare Zlatan Ibrahimovic, in quella prima parte di stagione tra Coppa Italia e campionato, realizza 21 presenze, realizza 11 reti e fornisce 5 assist. Nella stagione dopo, 2020-2021, Ibra totalizza 27 presenze, 17 reti e 3 assist. Questa, l'attuale stagione, odierna, 21-22, è partita con 8 presenze, in campionato e in Champions League, 3 gol e 2 assist. Per un totale di 56 presenze, 31 reti e 10 assist. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che, tra l'altro, fra parentesi, ricordo una cosa, l'età. E il brutto infortunio che ha avuto al Manchester United. Quindi, in 56 presenze, da quando è tornato al Milan, è stato decisivo ben 41 volte. 31 volte facendo la rete, 10 volte fornendo un assist. Quindi, più dell'80% delle partite, Ibra è risultato decisivo. Un numero rapportato all'età davvero impressionante. Oltre che poi, Ibra ha fatto crescere tutti i giocatori attorno a sé. E questo è un fattore davvero molto importante. Esempio, leadership, grande, grande, in qualche modo, possiamo dire, esempio all'interno del gruppo. Trascinatore, in qualche modo si è fatto carico di tutte, in qualche modo, le pressioni iniziali da quando è arrivato al Milan. E adesso le sta, in qualche modo, spartendo sui giocatori che vede più pronti. Di giovani che vede più pronti, supportato da un gruppo, ormai in qualche modo collaudato, di giocatori non più giovanissimi come Kier, che tira il gruppo. Calabria è cresciuto moltissimo, Romagnoli sta crescendo moltissimo, non a livello tecnico, ma a livello di mentalità con lui. E poi sta crescendo tutti. Sta crescendo Tonali, sta crescendo... È cresciuto che sì, è cresciuto tantissimo anche lo stesso Tomori, sta crescendo Teo Hernandez, Rafael Leao. Ecco, l'importanza di Ibra. Molte volte viene, in qualche modo, non ricordata a sufficienza. Ripetiamo, 56 presenze, 30 reti, 10 assist, da quando Zlatan, 38enne e mezzo, ha risposato il progetto Rosso Nero. Un grande, grande, veramente, leader, un grande attaccante che, mi auguro, possa concludere comunque la sua carriera in Rosso Nero. E come sempre, se vi è piaciuto questo video, vi chiediamo di mettere mi piace, di condividerlo, di iscrivervi al canale YouTube di Rubrica Rosso Nera.